Il suono è simile a quello di uno xilofono, ovvero lo strumento composto da due file di barrette di legno disposte come la tastiera di un pianoforte, ma si tratta in realtà di litofoni, pietre usate come strumento musicale dei nostri antenati. Torna a rivivere, dopo 10.000 anni, il suono degli strumenti dell'età neolitica. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'Orchestra Nazionale Francese, il compositore classico Philippe Fenelon ha scritto un'opera musicale con questi strumenti preistorici. E per la prima volta si potrà gustare di nuovo il loro suono. Un uomo neolitico 8.000 anni fa ha scolpito queste pietre, spiega Eric Gontier, minerologo del Museo di Storia Naturale Francese. Le pietre sono molto particolari, a forma cilindrica e abbastanza lunghe per produrre un suono e una vibrazione. Lo stesso Gontier sta combattendo da sei anni per far sì che queste pietre siano accettate e riconosciute come strumenti musicali. Molti di questi litofoni sono infatti finite negli scantinati dei musei ed etichettati come mazze, asce e altri strumenti. Ora sono stati rispolverati e possono tornare alla loro funzione originale.